e da un po di tempo che non parlo di etf sul mio canale l'altro giorno mi sono praticamente picchiato virtualmente per questa enorme mancanza perché effettivamente penso che siano uno strumento validissimo per la creazione di portafogli ampiamente diversificati ma che siano più semplici da poter gestire rispetto al normale stock picking per cui mi sono messo giù e ho buttato su carta tre possibili scenari di portafogli fatti di soli etf cose semplici che possono permettere di analizzare la possibilità di gestire il proprio denaro con questi strumenti e sono tutti e tre portafogli che io personalmente valuterei per me stesso per cui ti presento questi tre scenari ma subito dopo la sigla ciao a tutti bentornati sul canale io sono pasquale questo io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto oggi come anticipavo prima andiamo a vedere tre diversi portafogli fatti di soli etf e che guardano a tre diverse tipologie di investitori o per meglio dire tre diversi possibili scenari potrebbero essere scenari legati per esempio solo alla percezione del rischio ma anche alla semplice età anagrafica dove qualcuno magari di età più giovane possa andare a concentrarsi su asset più o meno volatili mentre una persona di età più avanzata senza fare nomi e cognomi concentrandosi sulla salvaguardia del proprio portafoglio ci sono alcune regole che mi sono imposto per queste tre alternative e te le dico subito regola numero uno al massimo tre etf per portafoglio voleva avere una situazione semplice da gestire anche in considerazione di una eventuale fase successiva di ribilanciamento del portafoglio numero due evitare i classici portafogli già costruiti e ben conosciuti tipo l'all weather di dai dalio il golden butterfly il 6040 non perché siano inefficaci anzi ci mancherebbe altro ma perché su quelli trovate già centinaia di video realizzati sul tubo e per cui sono molto già conosciuti e molto utilizzati numero tre non andrò a parlare di percentuali da destinare a ogni singolo etf questo perché si aprirebbe una discussione su infiniti possibili scenari che sono soggettivi e che variano per ogni singola persona quello che per me potrebbe essere per esempio una sovraesposizione potrebbe essere per qualcun altro una scarsa esposizione ad un certo tipologia di asset proprio per il punto 3 appena citato questi non sono consigli finanziari ma semplici spunti di riflessione che poi ognuno potrà andare ad approfondire e capire se possono essere utili alla propria strategia di investimento e quindi a quel punto su come allocare ogni singolo etf in ogni portafoglio in termini percentuali numero 5 i primi due portafogli sono solo composti da due etf do anche una mia impressione su quale a questo potrebbe essere una alta tipologia di etf che si possa considerare come una terza aggiunta però ora basta regola e permesse altrimenti si fa notte per cui cominciamo andiamo al pc e partiamo dal primo portafoglio con il etf che amo più di tutti devo dire l'ho proposto tante volte e molti miei colleghi di turla l'hanno acquistato è l'iShare Edge MSCI World Momentum Factor di cosa si occupa questo etf questo indice va a replicare i titoli nazionali di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo con un elevato momentum del prezzo l'indice è composto da titoli che hanno registrato incrementi dei prezzi negli ultimi 6 e 12 mesi per andare a scoprire di cosa stiamo parlando andiamo però sul sito dell'emittente BlackRock dei loro prodotti iShares prima di tutto di cosa stiamo parlando principalmente investiamo in titoli IT un 31 per cento del fondo abbondante poi titoli finanziari consumi discrezionali salute industriali energia così come vediamo qui sotto in termini di area geografica invece parliamo del quasi 69 per cento stati uniti 5 e mezzo per cento giappone 5 canada 4 e mezzo francia e poi via via gli altri paesi quindi tutti paesi prevalentemente sviluppati andiamo a vedere un attimo i rendimenti con dei rendimenti annualizzati dal lancio di un 14,59 per cento circa su base anno con il benchmark che è circa il 14,83 quindi diciamo che la deviazione è molto bassa andiamo a vedere anche la scheda di questo prodotto e possiamo vedere che è un nazionale totale appunto che è un momentum index che viene ribilanciato con una frequenza ogni 6 mesi quindi semestrali e l'utilizzo dei propri dividendi e ad accumulazione ma chi c'è dentro diciamo che le principali holding sono quelle più grandi essendo un momentum di appunto di quel periodo storico particolare abbiamo apple microsoft tesla nvidia alphabet con le sue due classi asml holding jp morgan bank of america novo nordisk ovviamente ce ne sono tantissime di posizioni e in realtà se vogliamo andare a vedere quante ce ne sono scendere giù nelle caratteristiche del portafoglio e vedere che il numero di aziende all'interno di questo paniere in questo momento è 349 con cosa lo andrei ad abbinare io questo prodotto per il primo portafoglio beh essendo il portafoglio più rischioso sicuramente con l'iShare Core MSI Emerging Markets che questo qui va semplicemente a replicare i titoli azionali dei mercati emergenti di tutto il mondo ovviamente ci stanno bene assieme perché con uno andiamo nei mercati che sono quelli con momentum che però sono sviluppati e qui invece con quelli in via di sviluppo con quelli emergenti e in questo caso dove andiamo a investire anche qui nell'IT prima di tutto ma in una percentuale un po' più bassa 21.6% finanziari quasi un 20% 19.5% consumo di iscrizione alle 13% comunicazione 9.8% materiali quasi 9% industriali 6% e così via aree geografiche penso che lo immaginate tutti prima di tutti c'è la Cina quasi con un 30% Taiwan con un quasi 17% India con un 13.6% Corea 12.3% Brasile 4% e così via in termini di rendimenti invece di tipo annualizzati dall'anno del lancio abbiamo un circa 4-9% anno però questo pacchetto di aziende come si può ben capire è molto volatile ed è questo uno dei motivi per cui queste due tipologie di ETF secondo me vanno bene assieme per chi ha un lunghissimo periodo come orizzonte temporale e anche tanta percezione del rischio da poter sopportare scheda di questo prodotto anche in questo caso abbiamo un azionario totale con un utilizzo dei rendimenti ad accumulazione e la frequenza del ribilanciamento di tipo trimestrale quante aziende ci sono andiamo nelle caratteristiche del portafoglio 2.980 aziende quindi un prodotto molto ma molto diversificato e strutturato un po' in tutti i sensi questi diciamo sono i due ETF Core del portafoglio poi come dicevo all'inizio appunto le percentuali sono in base alla scelta di chi investe però come terzo ETF qui penserei di aggiungere per esempio un ETF di tipo settoriale un ETF ad esempio sulle terre rare oppure sulla robotica, sulle car, sulle driving, su qualcosa di un po' più settoriale ad esempio sugli games, comunque qualcosa che dia uno slancio al portafoglio in più con la percentuale che magari in periodi particolari storici possa farlo salire in maniera esponenziale per cui un ETF il terzo da non tenere per sempre ma da andare a utilizzare sfruttando i periodi del momento il secondo portafoglio diciamo è un po' più bilanciato e sta a metà strada fa il primo che ho appena presentato e quello che verrà dopo il primo ETF che vado ad aggiungere a questo portafoglio è il Vanguard Life Strategy all'80% questo fa questo ETF di nuova diciamo introduzione e credo che sia stato solo introdotto l'anno scorso praticamente va a investire circa l'80% degli asset in titoli di mercati sviluppati ed emergenti e restante 20% in obbligazioni, gli emittenti provengono da mercati sviluppati e emergenti ma le obbligazioni sono sempre denominate o coperte in euro andiamo sul sito di Vanguard per capire di cosa parliamo qui possiamo vedere che il fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un reddito investendo sia in titoli azionari e a reddito fissio principalmente attraverso l'investimento in altri schemi di investimento collettivo questo significa che Vanguard va ad utilizzare altri ETF per andare a comporre questo ETF un po' un ETF dell'ETF dal punto di vista dei rendimenti come dicevo prima è un portafoglio nuovo per cui possiamo vedere solo il 2021 nel quale ha reso quasi un 21% di rendimento ovviamente è un prodotto nuovissimo e andrebbe analizzato nel lunghissimo periodo i dati del portafoglio quali sono? andiamo a vedere tutti questi sottostanti abbiamo un po' di corporate bond un po' di eurozone government bond il FTSE All World per cui tutto il mondo sviluppato e non l'Asia Pacifico escluso il Giappone Europa sviluppata, World sviluppato insomma c'è un po' di tutto per quanto riguarda la componente obbligazionaria e azionaria vediamo qui che un 20% è obbligazionario un 79-8% azionario e adesso abbiamo termine possiamo vedere anche l'allocazione dei fondi e sottostanti abbiamo quasi un 19,5% in global aggregate bond che sono eggiati in euro e vanno all'accumulazione poi abbiamo il Nord America 19% All World al 19% Develop World al 19% Develop Europe al 6% e così via gli altri ETF che vanno a comporre questo portafoglio con cosa andiamo a minare questo ETF? con quello che secondo me è la componente mancante diciamo così è un po' più settoriale lo Spider Dow Jones Global Real Estate che praticamente è un indice che va a replicare gli investimenti fatti in REITs i Real Estate Investment Trust e le società che operano nell'immobiliare come Reo allora andiamo a vedere anche il sito dell'emittente Spider e che ci va a dire alcune informazioni su questo ETF l'obiettivo del fondo è quello appunto di replicare le performance del mercato immobiliare globale attraverso appunto i titoli immobiliari quotati se andiamo a vedere le informazioni appunto del fondo possiamo vedere che è una politica di dividendi a distribuzione e che la frequenza di questa distribuzione è su base trimestrale con una metodologia di replica ottimizzata per cui non è totale andiamo a vedere cosa è presente in questo portafoglio perché è la cosa che ci interessa molto di più al 7% Prologis Public Storage al 3.37% Simon Property Group al 3% Digital Realty Trust al 2.6% Realty Income al 2.43% e così via tutte le altre come si può vedere è molto ma molto diversificato anche perché possiamo vedere che se la prima posizione è il 7% e la decima ha solo l'1.71% sicuramente ce ne sono tantissime di diversificazioni a livello settoriale abbiamo un 31,2% quasi nell'industrial office poi abbiamo un 16,58% nella vendita al dettaglio 16% residential un 9,5% in diversified REIT poi abbiamo un REOC all'8,6% Sanità 8% Self Storage 6,8% e Hotels 2,82% Per quanto riguarda la composizione geografica del fondo quasi un 66% è negli Stati Uniti un 9,5% in Giappone Regno Unito 4,67% un 4,44% in Australia e un 2,94% in Singapore e via via tutte le altre nazioni Con cosa secondo me si potrebbe abbinare questo portafoglio? Beh, quello che secondo me è in scarsa proporzione fra questi due ETF sono le obbligazioni corporate i bond corporate che sono presenti nel live strategy ma solo in piccolissima parte e secondo me un ETF che vada a replicare questa asset class potrebbe dare al portafoglio sia vero una leggera volatilità in più ma allo stesso tempo dei maggiori rendimenti ovviamente poi ognuno potrebbe andare a scegliere il prodotto che più fa per sé magari l'ETF con i bond corporate in una piccola percentuale o in una percentuale più ampia come ho detto anche all'inizio di questa presentazione non vado a dare percentuali perché ognuno possa andare a valutare quali siano quelle ideali alla propria strategia di investimento Il terzo portafoglio è quello che a parer mio è più conservativo tra l'altro io ne avevo creato uno sui toro con i prodotti che aveva all'epoca tra l'altro vi ricordo se volete iscrivervi ai toro trovate il link affiliato qui sotto in descrizione quel portafoglio era fatto da 3 ETF il VTI il Vanguard Total Stock Market americano il TLT che sono le obbligazioni a lungo termine statunitense 23 anni e più e poi l'oro lo Spider GLD in questo caso ho fatto questa variazione in cui ho aggiunto lo Spider MSCI World che è l'indice che replica All Country World i titoli azionari a grande e media capitalizzazione di 23 mercati sviluppati e 25 mercati emergenti a livello globale se andiamo sul sito della Spider andiamo a vedere appunto che è un ETF ad accumulazione e quindi non va a distribuire nessun dividendo a chi va a investire in questo ETF dal punto di vista delle posizioni invece possiamo vedere che Apple è al 4% Microsoft al 3% Amazon al 2% Tesla al 1.23% ovviamente essendoci 23 paesi sviluppati e 25 emergenti il fatto che la prima azienda appia il 4% e la decima che è United Health Group lo 0,65% si può capire che questo ETF ha una profonda diversificazione l'ETF che sono andato ad aggiungere a questo portafoglio è l'Ishare Core Euro Government Bond per cui un indice che va a replicare i titoli di Stato denominati in Euro emessi dai membri dell'Eurozona tutte le scadenze sono incluse all'interno di questo ETF e il rating delle obbligazioni è Investment Grade per cui diciamo quelle più sicure dal punto di vista del settore vabbè possiamo vedere che questo ETF va a investire il 99,80% in fondi del tesoro dal punto di vista geografico abbiamo la Francia con il 24,7% l'Italia con il 21,7% Germania quasi un 18% Spagna 14,5% Belgio 5,6% e così via le altre nazioni dell'Unione Europea scadenze per quanto riguarda le scadenze delle obbligazioni la maggior parte come possiamo vedere sono scadenze a medio termine fra i 3 e i 5 anni 5,7 anni e i 7 e i 10 anni delle scadenze a lungo termine sono in maniera leggermente minore 9,8% dai 10 ai 15 9% dai 15 ai 20 e poi un 12,8% ai 20 anni in più quelle a breve termine in totale fra l'uno e i 3 anni sono più o meno un 18% qualità del credito come dicevamo prima investment grade con un 22% in AAA 35% in AA 17,6% in A e poi BBB un 24% dal punto di vista del rendimento questo ETF in annualizzato è andato a dare più o meno un 3,64% di CAGR su base anno per cui diciamo un rendimento per questo tipo di ETF che deve andare ad abbassare la volatilità del portafoglio che non è sicuramente male è un ETF che ha una frequenza di distribuzione semestrale per cui è un ETF che distribuisce delle cedole il numero di partecipazioni di appunto di obbligazioni comprate dal fondo sono 426 andiamo all'ultimo ETF di questo portafoglio che è il Wisdom Tree Core Physical Gold e che va semplicemente a replicare il prezzo a pronti dell'oro in dollari statunitensi e qui dalla pagina del prodotto di Wisdom Tree andiamo a vedere che questo è progettato per offrire ai detentori dei titoli security holder un modo semplice e efficiente dal punto di vista dei costi per accedere al mercato dell'oro fornendo un rendimento equivalente a movimenti del prezzo sport dell'oro meno la commissione di gestione applicabile l'oro fisica è garantito e allocato è detenuto dalla HSBC Bank PLC che è la depositaria che può accettare solo metà conforme alle regole di London Bullion Market Association e per il Good Delivery l'exchange traded commodity mirerà ad allocare lingotti di oro di provenienza responsabile dove possibile per promuovere elevati standard etici per l'etici ogni barra fisica è segregata identificata e allocata individualmente per cui non si tratta di contratti future o swap si tratta proprio di andare a prendere un ETF che va a basarsi sul possedimento di oro fisico ovviamente in questa tipologia di ETF non ci si può aspettare delle cedole perché appunto è un ETC non ha una copertura a rischio cambio e come dicevamo prima il gestore del collaterale è la HSBC Bank PLC ogni persona dovrebbe andare a valutare le proprie esigenze perché ad esempio una persona potrebbe dedicare il 30% in azionario un 65% in obbligazionario e un 5% in oro o diciamo nella modalità in cui meglio crede sia importante per i propri investimenti negli ultimi anni l'oro è andato a salire tantissimo come valore infatti si vede che questo ETC ha dato più o meno un 10% anno di rendimento degli ultimi 5 anni anche se in quest'ultimo anno ha perso leggermente del valore non tantissimo però l'oro va a seguire un po' tutti quei cicli legati all'inflazione e bisogna ponderarlo in una giusta quantità se lo si vuole inserire nel proprio portafoglio bene spero che questa cardellata di portafogli ETF possa averti dato lo spunto per capire cosa intendo quando dico che gli ETF sono degli strumenti estremamente versatili e di facili utilizzo attenzione però ovviamente non bisogna cadere nel tranello che investire con ETF è semplice ma approfondire sempre il sito dell'emittente per capire sempre bene cosa compriamo e con che strategia vengono gestiti o anche che strategia di investimento ha lo stesso ETF bene fammi sapere nella sezione commenti cosa ne pensi e comunque dammi degli spunti di riflessione perché dandoli a me li vai a condividere anche con la community poi se il contenuto è stato di tuo gradimento ovviamente ti chiedo la cortesia di farmelo capire ma di farlo capire anche all'algoritmo di YouTube lasciando un bel pollice in su se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun video successivo ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così sarai sempre aggiornato su ogni mia pubblicazione bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti